...se parabole. Oggi abbiamo l'onore di condividere il nostro spazio con Vincenzo Floridia, ingegnere meccanico con grande esperienza nel campo delle energie rinnovabili. Attualmente alla guida della filiale italiana del gruppo EcoPrime. Incomincia la sua avventura addirittura a Singapore per il gruppo Siena. Dico bene, Franco? Sì, Sharon. Il nostro ospite si occupa della costruzione di piattaforme offshore e gasdotti come Project Engineering. Dal 2008 si specializza nelle energie rinnovabili, lavorando in Enel e sviluppando il progetto Enel Green Power in Italia e all'estero. Continua la sua esperienza lavorativa in BP Solar, sviluppando un portafoglio in pianti fotovoltaico in Italia, per approdare infine in EcoPrime. Ci sei Vincenzo? Grazie Sharon e Francesco, anche per riportarmi agli inizi della mia carriera. Io ho iniziato dallo Elengast a Singapore, appunto, in un'epoca in cui le energie rinnovabili erano molto poco diffuse e conosciute. Oggi le energie rinnovabili sono una tecnologia matura che, in termini di competitività, ha superato impianti tradizionali a fonti fossili. Resta ancora il tema della gestione della rete, in quanto le energie rinnovabili non sono prevedibili. Se pensiamo al sole e al vento, chiaramente non possiamo stabilire in anticipo quale sarà la nuvolosità o il vento del giorno dopo. Per questo abbiamo, in parallelo alle energie tradizionali, quindi al solare e all'eolico, abbiamo sviluppato una tecnologia, solare termodinamico, che consente di risolvere il tema della prevedibilità delle fonti rinnovabili. In particolar modo, l'impianto di Partanna consente, grazie a degli specchi, di canalizzare la fonte solare su un tubo che viene attraversato da sali. Questi sali, che hanno le proprietà termiche molto avanzate, consentono di accumulare il calore e in estate, in Sicilia, riusciamo a produrre energia elettrica da fonte rinnovabile e da fonte solare per 24 ore. Da questo punto di vista, noi riteniamo che la tecnologia sia ideale, per esempio, come un paese per il Marocco.